Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Filiu, benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo la What's in the box challenge Difficile da pronunciare Allora, per chi non sa in cosa consiste la challenge Consiste nel Mettere qualcosa nella scatola Ovviamente un compagno, tipo il mio cameraman, il famosissimo Mio cugino, mamma mia E vi metterò qualcosa nella scatola e io indovinerò che cosa c'è dentro Io ora vi lascio a dire Vai Allora No, sono quei braccialetti che fai così e... No Ah, ho capito che cos'è Sono tipo quelle cuffie che si mettono nell'orecchio Sì, sì Posso vedere? Sì Posso fare il video così? Ok Allora, passiamo al prossimo oggetto Vai So già cos'è la fisarmonica Sì Sì, ho sentito la rubli, quello robo Ok L'ho messa in bocca all'alice Prossimo oggetto Sì 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 Scusate che è mia sorella sbraita Cos'è? Va più indietro Va più indietro Va più indietro Va più indietro Ecco Va bene Chiudo gli occhi, eh Oh Che molto Quindi fa male Abbiamo capito Ah Quella per conversare i temi Però non mi viene il nome La Teiera? Eh, quella Ok Al prossimo oggetto Vai Mangio per con la fai Buro cacao No Sì Posso porre dello yogurt in bocca Sto mangiando Ah Ti rompo un attimo Scusate per il casino Che sono sotto la pergola Di casa mia c'è un bordello Che manca all'inferno Vabbè Ah C'è un tappo C'è un tappo No Bastardi È colla Ma va? Verde Ma che? Ok che è verde il cubo Però la colla non pensava Tappo qua Prendimi Eh Ma bravo signori Ok prossimo Vai Un faccioletto No È il sacchetto per i cani Quello per i tagli Loro piccoli No Sette di sette È un guanto Cos'è? Però è un sacchetto Sì Però per cosa? Per infilarci dentro Gli occhiali Vero? Sì Vai Devinato Mamma mia Troppo forte Prossimo Vai Devo spaccare la scatola No Non lo rompere Perché? Perché è dell'arice Stavo rompendo Sì Perché se lo pieghi Si rompe Cos'è? Cos'è? Un gioco? No Ti do un indizio Molto Ti dammi un indizio Per favore Per favore È per la scuola Cioè di solito Il righello? Sì Il righello con la testa E non lo ne ho visto Sì Prossimo Vai Una molla No Sponsoreggiato Mix Buonissimo Continuiamo Un briceletto Fai Come però Amore Sì Sì Puoi guardare Se sono i nostri maschi Ti prendono per lì Poi Vabbè Riggi Attenga Vai Un braccialetto Un marello Ma che Ma che C'è È tutto gommoso È uno slime Un pezzo di gomma No Non ho sentito Che Sono troppo Di gommoso Sono tipo Quegli animali Gommosi No Aspetta 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 Un ciucci Sì Ti se l'hai messo in bocca Calice Ma tanto tempo fa È mia sorella Ok Prossimo oggetto Voglio lavorare le maniche Vai Una matita No Matita Oh mio mio È la matita Con la gomma sopra No Non è così facile Ah il coso per adarsi Sugli occhi Quella cosa È un pennello Sì Pennello Oddio È volato È volato È volato E questo era l'ultimo E ora Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi Mettete like E ci vediamo al prossimo video